raga ho dovuto prendere mobitzen e marito perso due cacchio sei no nella bocca del nonno non mi hai aspettato no ciao ragazzi siamo le sorelle chiesme ero sul tavolo penso che dovevo fare tutto il genere mi ha preso in un boccone ecco vedi vedi oh ciao harry potter è il nostro è il mio gattino e qui c'è il il patch ock cioè tuo figlio cioè il tuo gatto e qui c'è il nostro weasley il figlio di amy cioè il gatto di amy cioè che cavolo basta e raga non ci siamo ancora presentati io sono talenti e io sono il capo delle sorelle chiesme e anche di arrivo non so se sentite voi ma io sento la scusa porca miseria no quello no mi dispiace non lo faccio rimango qui in questo livello lo rimango non mi piace non mi piace la bocca del nonno preferisco stare nella casa del nonno invece di stare nella bocca del nonno perché mi fa schifo vero ma io si ti odio l'anno ti odio scusate raga che non abbiamo potuto iniziare il video prima ma il mio tablet era scarico e quindi non mi arrivava mobile cioè questo qui e questo questo ok ce l'hai fatta ce l'hai fatta si oh ciao sei italiano seguici anche se sei morto seguici se sei italiano c'è pure il formaggio ammuffito nella sua bocca guarda scusa ma voi non lo vedete perché io sono vicino alla mia amica bella sì ah questo è difficilissimo ah è quello della popò amare no e poi ti porta la popò nell'altra popò ah capito però non mi aspetti no in verità vorrei però mi spinge lui veramente mi sta mi qualcuno mi sta spingendo a cadere raga ma ma non lo vedete non riesco a fare questo livello notte maria notte a questo gioco e al nonno chi chi non piace il nonno alzi la mano ce l'ho quasi l'avevo finito ma l'avevi finito tutto no avevo finito questa cacca e dopo la cacca finisce tutta maria no poi ci stanno i campi le cosce le cosce di pollo non esistono ti fa vedere soltanto le chiappe che che sono imprigionate da dalle manette perché va alla polizia polizia neanche mi aspetti no dai te la faccio io ecco che sì sì grazie però attenzione è molto pericoloso ok ora al comando il sergente cortes cioè prima di tu ora sono io in questo momento quella anche anche vedi quanto è difficile nel mio tablet visto non è difficile solo perché è questo qua che ti pensola tra poco dovremo andare a dormire perché non è notte notte fonda abbiamo deciso di giocare notte di notte perché è sabato è venerdì nostro giorno preferito in cui è l'ultimo giorno della settimana dove non si va a scuola mi dispiace per le altre persone perché in alcune scuole fanno pure il sabato allora sono uscita non dovete mai sono uscita hai finito c'è pure l'esterno per fortuna per fortuna perché così non vedi più il nonno anzi ragazzi lo faccio io sì grazie è scranzato nonno è scranzato un nipote che neanche ci aiuta è scranzato e guarda la sua faccia è sorridente è questo qui quello che è no eccolo eccolo guardate la sua faccia aspettate non la mia di marshmallow questa marshmallow è un marshmallow coprite faccia al marshmallow e vedete dove c'è scritto to e on è youtube è subescritto perché è un youtuber lui ma noi siamo le youtuber raga ma non vi siete mai accordi che abbiamo una voce uguale a un altro c'è un altro canale donate la vedrà ragazzi siamo noi siamo noi vi ricordate di noi siamo le vostre mamme sì davvero siamo le mamme loro siamo le loro mamme non si ricordano di noi siamo le loro mamme come hanno fatto a dimenticarci chi non segue più il nostro canale è scranzato come il nonno che è a parte del nonno è scranzato della nonna è scranzato tutti scranzati quelli cattivi su roblox perché la merda ora no il formaggio mi fa schifo ma di questo lo so fare da soli te lo faccio io vuoi fare tutto tu sì anche quella merda sì non lo dite e non dite che l'abbiamo detto mamma se ci stai ascoltando scusa ma dobbiamo sfogarti allora ma guardami su non l'avevi notato no io l'avevo notato fin d'apri ho paura di una che o che li toccò forse quello ti porta sfortuna ecco perché muori dai dammi una il copilota ha fatto il suo lavoro no non è ancora finito però I believe I can fly scranzato nipote del nonno merda merda mamma se ci stai ascoltando mi dispiace tantissimo a noi due ci dispiace tantissimo dire parolacce ma noi ci dobbiamo sfogare almeno su internet per favore meno sfogarci e poi stiamo nella merda stiamo nella cacca meglio dire cacca siamo nella cacca come dicono i miei contro te se non segui i miei contro te che scemo scusa mamma ancora scusa però è la verità sono i youtuber più famosi del mondo pure più di noi già perché noi siamo youtuber da po' c'è da un bel po' però l'abbiamo fatto il po' non mi concentro dite ragazzi ma non c'è una po' hai i tuoi poveri sub iscritti ma guarda che puoi farli anche tu soltanto che lei non ha youtube vediamo un po' la faccia di Marie è gelosa forse perché non hai la chiavetta raga io ce l'ho la chiavetta avete presente che Mopizen si può fare sui telefoni questo è un tablet che che si trasforma in telefono cioè dentro diventa il telefono io vado più avanti visto che mi è tristito ecco qui sei pronta alla fine sei alla fine ormai non devo ballare devi andare adesso non devo ballare puoi andare no youtube è giusto si ho finito ragazzi si ragazzi ho finito raga visto che ha durato fin troppo poco il video dopo giocheremo a cinque a tre cosa a caso c'è su roblox perché sui altri giochi perché non abbiamo minecraft si c'è un gioco lì e su minecraft io vado in quest'altro scherzo non ha un'altra cosa ma io vado in quest'altro scherzo già e su minecraft costa una volta ce l'avevo l'ho l'isciani che è scema chi c'è l'ho l'isciani poverino non potesse scaricare nulla sono un altro gioco un altro gioco ho spiaccicato la merda scusa mamma scusa 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 ti prego perdonaci non sappiamo che ci prende non c'è bisogno non c'è bisogno di niente non c'è bisogno di niente non so perché sto facendo questa cosa scusa scusa ancora allora basta non lo so perché mi vieni mi va di dire parolacce non so perché forse perché mamma ti dobbiamo dire un segreto da mille anni a scuola dicono parolacce noi lo stiamo imparando dai più grandi devi fare qualcosa qualcosa quel figlio guarda che bello però io e Marie ci dobbiamo inventare delle esclamazioni altrimenti che youtuber siamo senza esclamazioni facciamo pure un saluto sì ecco qua finalmente I'm free I'm free chi non sa l'inglese I'm free vuol dire sarai libero guarda è messo qui qui tu hai preso quello ah e si prende da qui è youtuber prendo il bianco io li ho presi tutti prendo il verde perché oh e prendo anche il blu prendo anche il giallo e prendo anche il rosso perché non lo sa lo sai non serve per conservare le altre cose perché si ci possono stare a massimo tre qui sotto guardate quanto sono in aria voi non potete però io si raga però raga andiamo a inganare le altre persone che aveva un sogno che si avrebbe ai 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 un sogno che si avrebbe aspetta un momento ma che cacchio è marì che è questo è un spara 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 puzzette si mamma ok mammina mi dispiace raga domani faremo un nuovo week ci vediamo ragazzi ma i love you allora ma dov'eri sopra quei tetti ciao raga ciao